Buongiorno e buon caffè biblico a voi. Alcuni anni fa feci un viaggio nella foresta amazzonica e dormì in un villaggio nel mezzo di essa. Un'esperienza straordinaria che mi porto nel cuore. Ci inoltrammo con una guida esperta, una sorta di Indiana Jones, e la potenza della natura ci investì subito. Eravamo sommersi dalla vegetazione, dai colori, dai suoni degli animali. Di notte non si poteva dormire in quelle capanne, tale era il rumore degli animali. E ricordo che una delle tante cose che mi impressionò fu il terreno. Il terreno soffice su cui camminavamo. Understory, ci disse la guida indicando il terreno, mostrandoci quanti strati di vita contenesse. Understory, che tradotto significa storia di sotto, sottostoria. Era il nome del sottobosco terreno sopra la terra vera e propria, cioè quello strato ampio di foglie, arbusti, insetti, erbe e chissà cos'altro su cui noi stavamo camminando. Ci spiegò che giornalmente foglie, arbusti, insetti si depositano sul terreno, creando strati e strati di un folto tappeto poco raggiunto dalla luce del sole, eppure vitale per la salute della foresta. L'Amazzonia ha dunque una chioma della foresta che si vede visibilmente in tutti i documentari che vediamo, e un terreno, una terra da cui germogliano gli alberi. E quel sottobosco, quella sottostoria, poco illuminata, perché le fronde degli alti alberi non fanno filtrare il sole. Quella sottostoria quotidiana sotto i nostri piedi, a cui noi non prestavamo nemmeno attenzione. E queste tre componenti, la chioma, la terra e il sottobosco, la sottostoria, insieme rendevano l'Amazzonia quello che era, uno dei pilastri su cui si regge la salute del pianeta, il polmone del mondo, cruciale per gli equilibri climatici, custode del 10% della biodiversità mondiale. Anche in noi c'è una parte pubblica, visibile, come la chioma della foresta, a cui prestiamo grande attenzione, specie in Italia, in cui investiamo molto tempo e risorse. E c'è una parte privata, profonda, come la terra della foresta, da cui partono le nostre emozioni e prendono forma i nostri sentimenti, il cuore, se così vogliamo chiamarlo, e su cui investiamo comunque molte energie. Magari non bene a volte, ma lo facciamo. Ma non dobbiamo trascurare quel sottobosco, quella sottostoria tra chioma e terreno, quelle attività quotidiane apparentemente banali che sono gli arbusti, i cespugli su cui camminiamo quotidianamente e non ce ne rendiamo neanche conto. Sto parlando delle nostre piccole abitudini, le conversazioni distratte con familiari e vicini, i tragitti per andare al lavoro, le reazioni a piccoli imprevisti, insomma gli spazi normali, per così dire, tra le cose apparentemente importanti della nostra giornata. Possono non sembrare così eccitanti o cruciali da sole, ma messe insieme costituiscono una componente importante dell'ecologia di una persona. Come aiutarci a vedere e comprendere questa nostra sottostoria che raccontiamo senza spesso nemmeno rendercene conto? Nella Bibbia il saggio dei proverbi ci invita a fare un esercizio molto semplice che è questo. Ascolta il consiglio e ricevi l'istruzione affinché tu diventi saggio per il resto della tua vita. La Bibbia ci stimola ad ascoltare il prossimo, a scorgere il consiglio, il feedback, l'istruzione che viene dall'altro, perché ci aiuterà a vederci per quello che veramente siamo, a conoscere meglio non solo il nostro aspetto pubblico, visibile o quello privato, la parte più profonda, il nostro cuore, ma soprattutto quella sottostoria che andiamo raccontando al mondo senza nemmeno rendercene conto e che è parte essenziale di chi siamo. Dio vi guidi oggi nell'ascolto. Buona giornata.